Mister si torna a giocare al Comunale, è un problema? No, 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 perché assolutamente. Affrontiamo una squadra importante, speriamo di ricevere l'apporto di tutti perché è una partita difficile per noi, una squadra molto molto attrezzata, la Reggiana e dovremo dar battaglia, ci vorrà tanto coraggio, tanta rabbia, tanta determinazione e dobbiamo fare una gran partita. Per fare una gran partita la vittoria di San Marino vi aiuta parecchio? Sì, sì, era un risultato che per la classifica era molto importante anche per il momento che ci troviamo adesso, sappiamo che stiamo un po' in difficoltà in questo momento per i tanti problemi che abbiamo, quindi era importante ritrovare un po' di autostima in noi e questo è sicuramente stata un'iniezione di fiducia per me e per i giocatori. Facciamo la solita conta degli assenti e dei presenti, chi manca? Niente, ormai abbiamo dei giocatori che l'abbiamo perso per tanto tempo, quindi in questo momento qua siamo 14-15 giocatori, quindi siamo un po' stretti come Rosa, però per il resto abbiamo il solito problema in avanti che purtroppo non si allena con la squadra, la padula, quindi è chiaro che è sempre un pochettino condizionata la sua prestazione, però gli altri però stanno bene. Visto allora che gli uomini sono contati, formazione? Ma formazione, diciamo che abbiamo provato questo nuovo modulo la settimana scorsa proprio in funzione della mancanza di giocatori di ruolo, diciamo che in linea di massima la formazione di domenica, però c'è Amadio squalificato, quindi ancora una perdita... Al suo posto? Ci sarà Lulli, ci sarà Piggini che sono entrati lì a San Marino che sicuramente faranno il massimo per dare un apporto a questa squadra. Con la Reggiana più 3-5-2 o 5-3-2? Ma io spero più 3-5-2 perché poi noi alziamo gli esterni, quindi di conseguenza se riusciamo ad avere un possesso palla importante sarà un 3-5-2. È chiaro che la Reggiana è formata da giocatori di grande esperienza, giocatori che vengono quasi la totalità dalla Serie B, quindi diciamo dobbiamo essere anche pronti a fare una grande fase difensiva per poi sfruttare le occasioni che ci vengono date.